Ma allora a cosa serve il debunking? Serve a mistificare? A confondere le acque? Oppure a un'utilità? A questo cercherò di rispondere oggi qui insieme a voi. Bentrovati naviganti! Allora vi segnalo, come forse già sapete, che abbiamo superato i 500 iscritti sulla nostra Isola del Mistero e continuiamo a viaggiare, quindi vi invito a unirvi a noi su Patreon per darci una mano a fare questa svolta, questo cambio di passo nella realizzazione di tutti i nostri contenuti. Ci sto già ragionando, sto facendo diverse ipotesi, ne parleremo presto. L'altra cosa che vi volevo segnalare è che ci stiamo avvicinando alla partenza del mini corso per riconoscere e contrastare le bufale e le fake news, che partirà molto presto. E quindi vi invito a registrarvi, basta andare al sito massimopolidorostudio.com slash fake news, registrarvi e poi riceverete tutte le informazioni per partecipare. È un corso gratuito, quindi davvero è un modo per approfondire e per sistematizzare un po' meglio alcune delle conoscenze che io cerco di trasmettere quotidianamente con i miei video. E questo ci porta proprio al tema di cui vi volevo parlare oggi. E prendo come spunto un messaggio che è arrivato sotto uno dei miei video, in particolare sotto il video in cui parlavo della massoneria. Il titolo era Massoneria, la storia sconosciuta. Il primo di due video in cui, come naturalmente spiegavo nel video, tento di dare un'interpretazione, una spiegazione a questo movimento. E allora vediamo che cosa mi dice Robby Rune, non ha lasciato un vero nome. Il debunking ha lo scopo ideologico di mistificazione, di travisamento dei fatti, di distruzione di ogni pensiero critico, di approvazione del pensiero unico, di totale asservimento all'autorità e alla propaganda di regime. I debunker sono di natura conformisti e di indole servile, come cani di guardia, da guardia forse, abbaiano furiosamente contro chi mette in dubbio il padrone, oppure cercano di farli passare per pazzi visionari. Farli passare? Vabbè. Se questo video, tanto edulcorato, aveva lo scopo di convincermi che la massoneria ha le stesse caratteristiche di un circolo bocciofilo, di Bridge ha fallito in pieno. E con questo giudizio, insomma, categorico di Robby Rune, peccato che non si è identificato con la sua vera identità, come invece tutti noi che parliamo e ci confrontiamo facciamo, beh, mi dispiace, insomma, ma forse non lo ha ascoltato. Probabilmente è quello che succede. Di solito lo sappiamo, non c'è questa critica. Magari ha sentito dieci secondi del video, o magari non l'ha neanche guardato, semplicemente perché compare sul mio canale, pensa che vada in una certa direzione. Abbiamo fatto in questa prima parte una ricostruzione storica di come è nato quel movimento, di quali sono le sue caratteristiche. C'è un altro video, come avevo annunciato, in cui invece analizzeremo le parti meno alla luce, meno così luccicanti, ecco appunto, di questo movimento. E tra l'altro arriverà proprio venerdì, per strane storie. Quindi non ve lo perdete perché il discorso prosegue. Ma al di là di questo aspetto specifico, è interessante questa mail perché è proprio rappresentativa di un modo di pensare di alcune persone che non riescono a capire esattamente che cosa facciano, per esempio, i debunkers. Io non mi definisco così, anche se questo Rob Iran pensa questo o questa, non so se una donna cerca di mettermi in questa categoria. debunker, sapete, è una definizione che si usa per indicare chi va a smontare sistematicamente le bufale, no? È qualcosa che mi sono trovato tante volte a fare anch'io, è assolutamente vero, che continuo anche a fare, ma non è il mio obiettivo finale. L'obiettivo che mi sono sempre dato, no? Seguendo gli insegnamenti di James Randi, mio maestro, è quello di indagare, di verificare, di accertare come stanno i fatti con una mente aperta, pronta ad accogliere nuove scoperte, nuove rivelazioni. Ma queste scoperte, queste rivelazioni, tu le puoi accogliere solamente se sono autentiche, se sono vere, se sono dimostrate, se le prove sono inconfutabili. Se si tratta di fantasie, di elucubrazioni, di ipotesi, magari interessanti, magari suggestive, ma non sono supportate da nulla, ecco che restano opinioni legittime, ognuno può pensarla come vuole, ma non si può pretendere che tutti ci credano, le accolgano come fatti autentici. E quindi qui dire, per esempio, che il debunking è un travisamento dei fatti, di distruzione di ogni pensiero critico, è esattamente capire l'opposto di quello che è, perché con il debunking, o comunque in generale, con il lavoro che io faccio per incoraggiare una mentalità più critica, faccio esattamente il contrario, perché io non sto dicendo dovete credere a me, dovete ascoltare me, quello che dico io è vero, quello che dicono gli altri è falso, perché sarebbe esattamente l'errore in cui questo signore, diciamo così, dice che io sto per cadere, ma io non l'ho mai detto e non lo dirò mai, perché io non ho nessuna verità da difendere, io cerco di incoraggiare degli strumenti per pensare, per ragionare con la propria testa. E strumenti che ciascuno può usare nel suo ambito, nel suo mondo, ma deve imparare a usarli, deve abituarsi a riconoscere quelli che sono le fallaci, i trabocchetti logici, deve imparare a capire come spesso noi caschiamo in errore, come funziona la nostra mente, come mai siamo portati a credere alle teorie del complotto e tanti, tanti altri motivi, tante cose che è bene conoscere prima di saltare alle conclusioni. Quello che non accettano persone che scrivono mail di questo tipo, evidentemente, è il fatto che certe idee, per quanto suggestive, e magari, chissà, anche per alcuni aspetti condivisibili, non siano dimostrate, quindi non vengano riconosciute come dati, fatti, accertati. E' questo che si intende sostenendo che la propaganda di regime, come è indicata qua, governerebbe, comanderebbe su tutto. A me, di quello che pensa il mainstream, come viene solitamente indicato con tono spregiativo, cioè la comunicazione mediatica tradizionale, la televisione, i giornali, ma anche la comunicazione istituzionale, dei governi, di chi, insomma, gestisce le decisioni pubbliche, interessa relativamente, nel senso che se sono fondate sui fatti, benissimo, se sono campate per aria, beh, questo lo si dice, lo si spiega, lo si argomenta. Non c'è, come invece, pensano questi personaggi, un bavaglio che impedisce di parlare di certe cose. Certo, se tu parli di argomenti che possono essere potenzialmente pericolosi, se fai apologia di qualcosa che è un reato, beh, quello è un reato in sé, quindi è questo l'unico limite. Ma per il resto puoi parlare di quello che vuoi, tant'è vero che questi personaggi hanno dei canali YouTube, hanno degli sbocchi, ovunque, seguitissimi, e quindi nessuno gli sta mettendo il bavaglio. semplicemente alimentano credenze, idee del tutto prive di un fondamento concreto, scientifico o anche storico, che possa essere dimostrato, che possa essere condiviso da altri. Non vuol dire, quindi, questo essere pensatori indipendenti, c'è sempre questo errore, abbiamo già fatto altri video in cui lo spiegavamo. Credere a qualcosa, credere che tutti gli altri che non la pensano come noi sono pagati, sono pedine, come dice qua, sono asservite all'autorità, sono servili, conformisti, eccetera, mentre siamo solo noi, gli unici, che la sanno lunga, come sostengono i Rob Iran, in questione, vuol dire, non vuol dire essere appunto pensatori liberi, vuol dire essere creduloni, avere un altro tipo di creduloneria. Chi è davvero un pensatore libero è un pensatore critico, ed essere pensatori critici richiede lo sviluppo di capacità di analisi critica e razionale, che richiedono competenze, che richiedono attenzione, che richiedono il tacitare le reazioni di pancia, le reazioni impulsive. Non è per niente facile, a tutti purtroppo capitano, vengono spontanee, perché siamo fatti così, siamo esseri umani, ma insomma cercare di fare uno sforzo come quello che io incoraggio, attraverso i miei video, è l'unico modo per cercare di sviluppare questa mentalità critica. Ora io non so se Rob Iran avrà ascoltato questa risposta, se interverrà mai più per commentare o per dire la sua, il dialogo qui è sempre ben accetto, quello che non è accetto sono gli insulti, sono le aggressioni, qui insomma siamo al limite, però se c'è un dialogo costruttivo dove si vuole davvero arrivare ad avere un confronto, io ci sono sempre. Quindi Rob Iran, se hai ascoltato, se vuoi intervenire, se vuoi commentare, dimmi come la pensi, dimmi se ti ho chiarito qualche idea, ahimè, penso di no, perché probabilmente hai già deciso che io vado categorizzato, e come me e tanti altri, insomma in una certa casella, spero di no, spero che tu abbia appunto ancora delle capacità critiche ben sviluppate e possa dire la tua liberamente qua sotto come possono fare tutti quanti. Noi ci vediamo presto, anzi ci vediamo di persona venerdì 25 a Roma, mi raccomando, alle 18.30 sarò al macro, vi aspetto con Michele Bellone, parleremo di geniale, ebbè sapete, abbiamo citato prima James Randi, geniale la condivisione che ho voluto fare di tanti di questi principi di razionalità che ho imparato proprio dal mio mentore, James Randi, un mago leggendario, come scrivo qui, sull'arte di vivere e pensare. Quindi se siete a Roma vi aspetto, ci vediamo lì, e comunque ci vediamo venerdì con Strane Storie, con questa seconda parte dedicata alla massoneria, e ci vediamo molto presto con il corso dedicato invece a come riconoscere e a contrastare le bufale e le fake news. Io vi ringrazio e spero potrete partecipare, se non all'incontro di persona che c'è a Roma o quello di Bologna, e mi raccomando, anche quello di Bologna del 2 dicembre al Teatro Deon, che sarà una bella serata insieme, beh, almeno partecipate a quelli virtuali. Strane Storie, naturalmente, e il mini corso per riconoscere e contrastare le bufale. A presto! Russia Russia Grazie a tutti.